Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In FIPILI per un incidente, in direzione mare, tratto chiuso tra Lavoria e Vicarello ed è stata chiusa anche l'entrata di Lavoria. Sulla stessa tratta, rallentamenti in direzione Firenze. In A1 verso Bologna, incidente al chilometro 337 tra Arezzo e Valdarno e c'è un chilometro di coda per un incidente al chilometro 18,700 della variante di Valico tra Firenzuola e Badia. Verso Roma, rallentamenti tra Pian del Voglio e Aglio. Guidare con prudenza per il vento forte in A1 tra Roncobilaccio e Calenzano, tra Valdarno e Monte San Savino e sull'intera variante di Valico. In A11 tra Peretola e Montecatini, in A12 tra l'allacciamento con la Statane 1 Aurelia e Pisacentro e tra Carrara e Sestri Levante. In A15 tra Berceto e l'allacciamento con la 12 e in FIPILI lungo tutto il percorso. Ed è tutto, buon viaggio!